E Brian Cristante, il primo acquisto del Pescara neopromosso, in Serie A il 21enne, centrocampista a scuola Milan ma di proprietà del Benfica, è arrivato questa mattina in città, si è sottoposto alle rituali visite mediche e nel pomeriggio è stato presentato alla stampa emozionato ma convinto di poter dare il proprio contributo alla causa biancazzurra. Non è sempre la cosa più facile credere in un giovane, devo ringraziarli per aver creduto in me e adesso sta solamente a me, come ho già detto, di dimostrare le mie qualità e il mio valore. Adesso il mio obiettivo è venire qui e giocare il più possibile e far vedere quello che vale. Cosa sai del Pescara e di Pescara? So che mi hanno parlato tutti benissimo, hanno parlato tutti che è una città di cui ti innamori, che tanti alla fine dell'esperienza a Pescara decidono di restare qui. Adesso spero di godermela nel migliore dei modi. Può essere questa la stagione per il definitivo salto in avanti per te? Sì, sicuramente, devo trovare spazio, devo giocare, pescare, una piazza che l'ha già fatto vedere che può far esplodere dei giocatori giovani come me. Milan e Benfica, due squadre nate per di solito giocare e vincere i campionati, arrivi in una squadra che in Serie A dovrà lottare per salvarsi? Sì, metteremo tutto, anche io particolarmente, tutto me stesso. E' quello che ho bisogno, di trovare una squadra dove devi trovare minuti e fiducia. Un saluto a tutti i tifosi del Pescara? Un saluto a tutti i tifosi e prometto il 100% dell'impegno e la massima professionalità. Senti, hai già scelto il numero di maglia, è così, giusto una curiosità? Eh no, se c'è il 24, non so se non c'è disponibile o no. Quale vuoi essere arrivato al 24? Per Kobe Bryant, insomma, mi piace il basket, piace l'NBA, era il mio giocatore preferito.